Ovunque ti giri c'è plastica, Ambra, gli sgabelli su cui siamo sedute, i microfoni, le telecamere che ci stanno riprendendo. Se non fosse ovunque non sarebbe una grande invenzione. Aia! Sì, ma se le nostre grandi invenzioni finiscono sui fondali marini, abbiamo un problema, no? Eh! Sì, ma il problema siamo noi. Pensa che in ospedale la plastica ci salva la vita. Aia! Ho capito. Sì, però potremmo anche fare a meno degli imballaggi, no? Tu hai idea di quanto cibo sprecaremmo se non ci fossero gli imballaggi di plastica? Ma basterebbe comprare cibo fresco ogni giorno? Eh, certo. Se hai soldi, tempo è un negozio sotto casa. Quando si tratta di plastica, avere ragione non serve. Servono buone ragioni da condividere. Corepla, per una ecologia dell'informazione. Corepla, per una ecologia dell'informazione.